ciao sono grazia di rocchetti e poi e oggi cuciremo insieme un bellissimo gioco memory perfetto per grandi e piccini e a costo zero iniziamo ritagliando dei quadrati di feltro 5 per 5 centimetri utilizzando poi scarti di tessuto andremo a ritagliare degli altri quadrati 4 per 4 centimetri rifiliamo tutti i lati con le forbici tagliacampioni facciamo una cucitura dritta tutto intorno ritagliamo una striscia in canvas 13 per 40 centimetri una striscia in tessuto ritagliamo poi un quadrato di tessuto 8 per 8 centimetri lo cuciamo a 7 centimetri dal bordo posizioniamo la striscia in tessuto dritto contro dritto col canvas andiamo poi a posizionare gli spilli e a cucire lasciando un foro di 5 centimetri che ci servirà poi rivoltarlo ritagliamo gli angoli e dal nostro foro lo rivoltiamo con il formangoli tiriamo fuori bene tutti gli angoli pieghiamo poi la nostra custodia a metà e andiamo bene a chiudere il foro che ci è servito per rivoltare utilizzando degli spilli facciamo due cuciture laterali ed ecco qui finita la nostra custodia con un punteruolo andiamo a forare in centro per posizionare il bottone che applicheremo utilizzando una pinza per bottoni automatici in plastica la nostra custodia è pronta a contenere tutti i tasselli del nostro gioco memory